L'appuntamento appunto donne che scrivono, ecco non solo perché le ospiti abbiamo detto sono due scrittrici ma perché come associazione dei contori abbiamo sempre celebrato ogni anno sia in biblioteca sia la giornata internazionale della donna sia la giornata mondiale della poesia. Venendo qui il 28 ci sembrava appunto di sintetizzare i due appuntamenti e quindi dare voce alla poesia e quindi alla scrittura attraverso le donne e quindi sintetizzare in un unico appuntamento due momenti così importanti. Due ospiti appunto che oltre ad essere due poetesse di spessore sono anche delle donne che vivono come noi del resto nel contesto socioculturale del centro sud d'Italia, una di Napoli l'altra di Roma e quindi tentano di rispondere alle sfide che come cittadine ma come donne, come intellettuali, come mamme, come lavoratrici si presentano quotidianamente alla loro attenzione. Chi vi parla, chi mi conosce, ecco lo sapete quanto io tenga proprio al discorso della scrittura al femminile. Perché? Perché la intendo non tanto come un accendere riflettore su quello che le donne sono o rappresentano di per se stesse ma per puntare l'attenzione su quello che scrivono come un messaggio da incarnare e far diventare impegno per far crescere la collettività in che cosa? Nella mentalità, negli atteggiamenti di vita concreta e nella cultura in senso nato e in senso nobile. Floriana Coppola, Stefania Di Lino, quindi sono donne, sono donne che scrivono e sono scrittura al femminile che diventa messaggio, un messaggio accogliente, un messaggio materno, generoso, capace di donare forza e coraggio. Ed è questo che io appunto ripeto spesso. A volte anche stesso i ragazzi dell'associazione dicono Sandra ma tu sempre con questa scrittura al femminile non è giusto? No, ma io intendo per scrittura al femminile non necessariamente una scrittura che parte dalle donne o parla dalle donne ma che si fa donna. Quindi è una scrittura capace come una madre, come una compagna, come un'amante, come una sorella, come un'amica di lanciare un messaggio universale, un linguaggio di compartecipazione, di compassione e accompagnare sia il lettore che l'ascoltatore quasi per mano in sentieri dove la distrazione del vivere quotidiano potrebbero portarlo. Questa è la letteratura al femminile a mio avviso, secondo le inclinazioni delle donne cioè quella peculiarità all'essere madre che genera interesse per ciò che magari sarebbe sfuggito e quindi perduto. Allora, poetesse, donne impegnate, sia Floriana che Stefania non parlano soltanto col o al cuore ma ci prenderanno per mano, vedrete, ponendoci degli interrogativi e stimolando riflessioni e soprattutto mettendoci dinanzi a scelte, a scelte di come vivere le situazioni reali, come pronunciare il nostro sì o il nostro no all'impegno civile e culturale che ci viene chiesto dal vivere qui, oggi, in questo contesto, in questa società e in questa globalità. Le presentiamo una per uno e in questo chiedo il supporto di Pamela Di Manno perché ci lenga la prima scheda la scheda chi è Floriana Coppola? Scrittrice, poeta e collaggista, è autrice di racconti, romanzi e istituzioni poetiche incentrate soprattutto sui problemi dei linguaggi femminili. Vive a Napoli dove insegna materia letterale negli istituti statali superiori. Dopo la pubblicazione del romanzo Donna Creola e gli Angeli del Portile, guida, e della silose poetica Il Trono dei Mirti, edizione della Grana Morozzo, nel 2009 riceve il premio giornalistico e letterario Marzani, organizzato dall'Associazione Campania Europa Mediterranea. Nel 2010 pubblica la raccolta poetica Sono nata donna, Wubelè, presentata anche a Peeta in occasione della giornata internazionale della donna 2011. Insieme a Catti Martino ha curato l'antologia poetica La poesia è una città e due paderni antologici inversi, artimie e linguaggi di donna. Nella Pinacoteca Comunale d'Arte Contemporanea di Gaeta sono state esposte sue opere. Il 4 agosto 2012 è stato ospite del primo meeting del Movimento dei Poeti di Andanti, mentre il 28 marzo presenterà il libro Dico l'ultimo della sorgente, con una storia attuale e sorgente, ambientata al Napoli, che vede protagonista una giovane donna, vittima di violenze e quotidiane sottusi. Grazie Fabella Di Mambra, grazie a tutti. Floriana, quindi, Vico ultimo della sorgente. Eccolo qui il libro. È un libro che possiamo definire sinteticamente sociale, un libro che narra appunto una storia reale, la storia di Anna, una giovane donna del nostro tempo, che si trova di fronte a una scelta. Adeguarsi e soccombere sotto i ripetuti colpi sempre più drammatici di una violenza familiare, la violenza di un marito bestia, che urla e che comunica solo picchiandola e sottomettendola, oppure ribellarsi e smettere di essere vittima, riappropriandosi così della propria dignità e della propria libertà. Un percorso non facile, una tragedia, una tragedia del nostro tempo, perché parla di una normalità alla quale purtroppo ci stiamo quasi abituando e che invece non possiamo rassegnarci e che storie come quella di Anna le leggiamo tutti i giorni sui giornali, ce le propone chi l'ha visto e appunto ci vengono sbattute proprio contro il muso. E poi ci sono altre storie, quelle che non leggiamo, che non sappiamo e che sono le storie nascoste, che spesso sono altrettanto gravi. Storie nascoste in un perbenismo fittizio di famiglie che stanno attenti a che non si sappia, non vengano fuori le brutture che si vivono all'interno. Oppure tessuti cittadini fatti di incomunicabilità e di maschere, storie generate da un utilizzo improprio dei servizi che magari ci sono teoricamente ma che non funzionano bene o non riescono a fare perfettamente la loro parte. Pensate, questa Anna che tra l'altro mi diceva Floriana ha conosciuto realmente, quindi un buon 70% del libro è frutto di realtà, questa Anna ha un marito che la picchia, cioè la condizione è questa, che la manda continuamente al pronto soccorso ed ha alle spalle una storia già di per sé drammatica con due genitori tossicodipendenti, quindi fin da bambina la costringevano a una violenza psicologica che le ha lasciato e continua a infonderle cicatrici sul cuore, cicatrici dure a sanarsi. Quindi Anna è vittima della solitudine, è vittima della paura, del poco equilibrio, della povertà di esperienze, delle incapacità di discernere e di fare scelte importanti. Diventata madre giovanissima, Anna spesso è stata picchiata anche durante la gravidanza, mentre ha allattato, mentre è andata in depressione, senza che nessuno ha mosso o muove o più un dito per lei. Eppure questa Anna, che durante il percorso in cui ci conduce il libro, la trova la forza di reagire e inizierà un percorso anche se poi commenteranno errori, pagherà dei colpi di testa che la faranno ritrovare sempre e comunque sola. Oggi una storia di dolore che ha sullo sfondo una Napoli, un'Anacoli fatta di vicoli, fatta di voci che si rincorrono, fatta di bellezze e di ipocrisie. Un'Anacoli difficile, non abbastanza solidale, se non per alcune bellissime figure tratteggiate da Floriana che sono descritte veramente con un'efficacia narrativa, sto pensando all'assistente sociale e alcune suore che incontrerà poi nella casa famiglia. Insomma, sono delle figure veramente che fanno ben sperare. Napoli, dicevo, è una città matrigna, una città che ha un groviglio di vicoli, di vicoli misteriosi, insani, dove Anna corre, sempre di corsa, è sempre questa metafora dall'uscire dal suo tunnel emotivo, emozionale e il tunnel di questi vicoli intricati della sua città. Eppure a un certo punto ci sono delle luci, dei punti luce che ci fanno sperare ed è proprio il compito, vi dicevo prima, di una Floriana narratrice che ci indica queste scintille di possibilità, queste fiammelle di positività che noi dovremo valutare, inquadrare bene per scrivere noi il finale. Questo mi è piaciuto del libro, scrivere un finale che risponderà a e io che posso fare, ma io posso davvero fare qualcosa? Sono queste un po' le domande che rimangono appunto a conclusione e mentre si legge questo libro. C'è una parte bellissima ma gliel'ho già detto a Floriana la parte che conclude la prima sezione del libro dove c'è questa telefonata, la telefonata della speranza e io ti pregherei di leggerla perché ecco, proprio qui c'è Anna che è rinchiusa dentro una stanza e non ce la fa più e chiama, chiama l'assistente sociale e sentiamo cosa dice. Pronto Anna, come stai? non me lo domandate, mi sento uno straccio, non ce la faccio più, ho sbagliato un'altra volta, ho sposato Antonio per salvare i figli ma se continuo a picchiarmi ho paura di non riuscire a reggere. Basta Anna, non dire più niente, hai fatto quello che potevi ma Antonio non lo puoi cambiare, stai rischiando la vita e anche i tuoi figli. Lo so, l'ho sempre saputo ma non vedevo una via di uscita, ora però me ne voglio andare. Dove sei adesso? Sono chiusa nel bagno, lui è uscito e il mio suocero è andato a Roxy. I bambini sono a scuola, puoi chiamare tua madre? Sì, adesso dovrebbe stare in casa, allora fatti venire subito a prendere e non perdere tempo. Io vi raggiungo tra un po' prima telefonano a casa di suore che conosco, si trova a Bagnoli ed è un posto sicuro a accogliere le madri e i bambini. Se faccio il tempo chiamo anche il giudice romano, lo sai dovrai firmare una denuncia contro tuo marito. Se vengono prima, che faccio? Non ti preoccupare, una volta tanto possiamo avere la fortuna dalla parte nostra, no? Applausi Grazie Grazie Grazie